Ciao a tutti, sono Sabine, specialista in nutrizione. In questo video vi racconterò tutto ciò che dovete sapere sul Keto Coffee Premium e ho anche degli avvisi importanti per non mettere a rischio la vostra salute. Guardate con calma e non perdetevi alcun dettaglio. Avete già provato di tutto per perdere peso senza successo? Non colpevolizzatevi. Anche adottando una dieta equilibrata e facendo esercizi regolari, raggiungere i risultati desiderati può essere una sfida. Se cercate una soluzione accessibile ed efficace, senza ricorrere a interventi chirurgici o trattamenti costosi, è ora di rompere questo ciclo e raggiungere la trasformazione che meritate. Ma prima, devo lasciare un avviso. Keto Coffee Premium è un prodotto esclusivo. Non lo troverete nei negozi locali o presso rivenditori online. È disponibile esclusivamente attraverso il sito ufficiale del produttore. Per facilitare, ho incluso un link al sito ufficiale nella descrizione e nel primo commento, per assicurarvi di acquistare il prodotto originale. Il Keto Coffee Premium è stato sviluppato da scienziati all'avanguardia. È un integratore che accelera il metabolismo cellulare, inducendo rapidamente il corpo alla chetosi. Così inizia il processo di conversione dei grassi in energia e riduzione del grasso viscerale, stimolando anche la combustione dei grassi in aree difficili, come pancia e cosce. Permettendo di ottenere risultati più rapidi rispetto alla sola dieta ed esercizio. Rendendo il processo di dimagrimento visibile grazie ai potenti antiossidanti naturali che disintossicano il corpo e garantiscono una perdita di peso rapida e naturale, promuovendo uno stato biochimico ideale che rallenta l'invecchiamento e rafforza il sistema immunitario. Potrete notare rapidamente un'esplosione di energia e concentrazione nel vostro percorso di perdita di peso. E qui viene la parte migliore, riduce il desiderio di dolci e cibi calorici, e anche un delizioso sapore di caffè, promuovendo migliori livelli di colesterolo e trigliceridi. Noterete rapidamente un corpo più snello e sicuro di sé, un significativo aumento dell'autostima. Quel vestito dimenticato in fondo al vostro armadio non solo tornerà in uso, ma vi sentirete incredibilmente a vostro agio. Keto Coffee Premium è altamente raccomandato dagli specialisti, non contiene sostanze che creano dipendenza ed è prodotto in uno stabilimento moderno e sterile che segue i più alti standard di qualità. Migliaia di persone in tutto il mondo stanno già beneficiando dei vantaggi del Keto Coffee e ordinano fino a 6 unità alla volta. Tuttavia, a causa della sua qualità eccezionale, la produzione mensile è limitata e l'alta domanda e gli ingredienti rari risultano in uno stock limitato, quindi se decidete di acquistare non aspettate. E c'è anche una garanzia esclusiva, che permette di effettuare una prova. Se, per qualche motivo, non otterrete i risultati, il denaro verrà rimborsato senza preoccupazioni. Keto Coffee funziona? Sì, la risposta è sì, purché vi assicuriate di usare il prodotto originale, acquistato solo dal sito ufficiale il cui link è qui sotto. Compilate i vostri dati e aspettate la chiamata di un rappresentante per aiutarvi e completare l'acquisto. Fate attenzione alla chiamata, potrebbe apparire come sconosciuta e solo così il vostro ordine sarà completato. Tenete presente che i risultati sono individuali e possono variare, quindi è essenziale mantenere la disciplina e assumere l'integratore quotidianamente. Un consiglio prezioso è mantenervi ben idratati per risultati più rapidi. Iniziate il prima possibile e grazie mille per la vostra attenzione.